Licata da palla all'indietro dove scivola e Franzino mette al centro per Gircenti e 3 a 0 L'Enna fa il gol numero 4 Franzino salta tre giocatori poi quattro e prova a lanciare in profondità il numero 16 Parisi che solo davanti al portiere tira ed è gol numero 5 La manita dell'Enna Sul versante sinistra